benvenuti a questo nuovo appuntamento eccoci qua insieme al mio fratello cammello e ad alessandro ciao benvenuto ciao grazie di averci ospitato nuovamente si adesso a seconda di come ti comporti eh ma sai mh prima di capire come ci comportiamo eh tornando all'universo digitale o grafico bisognerebbe stabilire se eh uno di noi fosse un programma come potrebbe capire di essere un programma potrebbe un programma capire di essere un programma secondo me io ho la risposta hanno fatto girare nel 2020 un virus proprio per vedere se eravamo un programma che poteva essere attaccato da un virus vero ah ok torniamo invece alla puntata di stasera che io sono non sto nella pelle perché è incredibile quello che hai fatto come ricerca alessandro è veramente incredibile perché effettivamente però ho detto con toni un po più moderati scombina scombina un po' l'ordine delle cose scombina un po' le carte del gioco eh perché tutto ciò che oggi sta accadendo a livello politico a livello sociale a livello di media si basa su delle fazioni eh fazioni che sono legate vedi israele ad esempio o vedi anche noi Europa comunque ha delle basi religiose e la religione eh tu ci insegnerai questa sera o ci spiegherai meglio la religione non è altro che un sistema ideato per controllare le masse e in questo controllo ciò che noi possiamo auspicare di ottenere alla fine per per avere la verità è capire la verità capire cosa c'è alla base perché eh eh non metto in discussione non non sto facendo Biglino perché adesso mi anticipo da solo nel senso che Biglino quando quando parla delle sue ricerche e non non voglio fare un confronto con lui anche se so che siete stati più o meno amici e poi avete preso due due strade separate ma eh Biglino ha 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 sempre questa frase dice io non sono qui a dire che eh non esiste Dio eh io sono qui a dirvi che quello che c'è scritto sulla Bibbia è totalmente sbagliato come interpretazione ed è stato ed è stata usata questa interpretazione sbagliata per per più di mille anni ok tu oggi penso eh anzi ne sono ne sono certo ci darai qualche altra qualche altra convinzione in più visto che lo studio è uno studio comunque scientifico storico ed è un qualcosa che eh se tutti ne venissero a conoscenza se tutti avessero la possibilità di non solo venire a conoscenza ma addirittura di poterlo andare a verificare no quindi di poterlo non solo studiare ma di averne certezza le cose sarebbero completamente diverse da quel momento in poi cambierebbe tutto eh mi sto sbagliando Alessandro ho detto qualcosa di sbagliato non ti stai assolutamente sbagliando adesso noi oggi partiremo da Gesù per poi fare un discorso ritroso nel tempo arrivare fino al all'antico testamento a vedere svelare chi era il famoso signore che ci viene raccontato nella Bibbia eh tutti questi personaggi che hanno subito un processo di divinizazione e deificazione che posso anticipare erano dei kurgan dei guerrieri che distrussero le società neogilaniche della cultura vinciata della vecchia Europa società qualitarie dove lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini uguale a quella dei suoi concittadini eh che schiavizzarono la popolazione autoconona della terra di Sumer i cosiddetti eh quelli della testa grigia della testa nera e Ninna Nanna Ninna O questo bubo a chi lo do lo daremo all'uomo nero quell'uomo nero è il famoso uomo nero eh della terra di Sumer che schiavizzarono questi kurgan Nanna era il figlio di Elil eh un personaggio umano carne e ossa tant'è che questi personaggi quando battagliavano tra loro usavano asce in eh con mazze di pietra eh e che ritroviamo poi anche nel primo faraone faraone Narmer nella tavoletta di Narmer con la famosa mazza di pietra perché uno dei figli di Noè alias Gesù tra della Bibbia Cam diventerà Am Amon il dio inconoscibile egizio nella tavoletta di Marmer è raffigurato con la mazza kurgan in mano questi personaggi subirono un processo di divinizazione e deificazione dopo la caduta della cometa Barcl che causò ne parleremo poi approfonditamente nelle prossime puntate il mito e la leggenda del famoso diluvio universale eh ci ho fatto praticamente poi ho raccontato un'intervista poco fa con un altro blogger ricostruendo tutta la storia di quello che è successo in quel periodo praticamente poi usarono l'organizzazione militare le religioni attraverso la deificazione dei loro eh antenati e l'usura eh per dominare e schiavizzare tutti i popoli dividendosi la terra in varie zone di competenza tra di loro per poi eh andare in guerra a scontrarsi tra di loro per eh conquistare terre sempre più grandi da questo organo arriveremo fino ai patriarchi biblici cosiddetti israeliti che e non sono gli ebrei in quanto chi costruì Gerusalemme furono gli Ixos un popolo di nomadi ecco perché non è mai stato ritrovato assolutamente nulla del famoso tempio di Salomone è vero è vero dire Davide abbiamo la serie di Mecchia ma lì c'è solamente un di e un bu che ci vogliono far spacciare per eh Davide e ce lo dicono tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo manetone sacerdote egizio del terzo secolo avanti Cristo l'Isimaco sacerdote oniaco oniate del centottanta avanti Cristo e ceremone uno storico che mh Gerusalemme fu fondata dagli Ixos un popolo di invasori che conquistò l'Egitto per circa cento dovanta anni dopodiché furono espulsi dal faraone Acmose I e Camose e costruirono Gerusalemme quindi appartengono a un'etnia completamente diversa dalla nostra l'aprogruppo J mentre i Kurgan sono i nostri antenati appartengono all'aprogruppo R1B che eh coinvolge praticamente il cinquanta per cento dell'intera Europa noi siamo discendenti di questi Kurgan tant'è che uno eh di questi personaggi Cain sbarcò a di discendente poi eh di Adamo aveva un figlio che si chiamava Caino Q N la radice vuol dire razza corona popolo Queen eh a una mazza altrimenti non era che il nome della Bibbia ecco perché poi Zaraustra si Freddi Mercoli diede il nome Queen al suo complesso eh non non è stato eh assolutamente un caso dicevo sbarcò addirittura qui nel Lazio abbiamo le asce Kurgan ritrovate qui proprio nella zona di Tevoli che sono il museo Pigorini a Roma abbiamo mura ciclopiche eh piramide di Bomarzo qui vicino eh e Cain era il figlio di Peleg e da Peleg nascerà il famoso popolo dei pelargi di cui si sa ben poco lo popolo di navigatori da cui poi eh abbiamo la prima eh civiltà protoellenica quindi apparteniamo alla alla progruppo R1B questo per dirvi poi che mh anche Gesù da questi arriviamo agli erodiani Gesù l'ultimo figlio del re ero del grande Udite Udite eh aveva discendenza da parte di due nonne una paterna e una materna la paterna era Cipro la mamma di Antipatro eh da cui abbiamo ero del grande era cugina della regina creopatra d'Egitto la regina creopatra d'Egitto come dimostremo nelle prossime puntate attenzione era la mamma eh di eh Maria la famosa Maria dei Vangeli che ebbe dal suo sacerdote Simone Boeto sacerdote Alessandrino come ci dice lo storico Galfotito Flavio Giuseppe eh quindi appartengono alla progruppo R1B ecco perché poi eh abbiamo questo Gesù eh nelle raffigurazioni sempre dipinto biondo occhi azzurri così come eh testimoniarono poi i primi archeologi quando trovarono le prime statue in Egitto queste statue erano fattezze caucasiche che parlo di archeologi del 1800-1700 ma diciamo ma come è possibile che questi eh faraoni abbiano fattezze caucasiche somatiche del viso occhi eh lapislazuri verdi azzurri che venivano quindi sono indoariani che venivano addirittura dal Kurdistan che sono vicino la ehm l'Elam che era l'Iran e e l'Iraq eh dopodiché attraverso la costruzione del delle religioni in ultimo il cristianesimo dottrina delle per il potere abbiamo la nascita della chiesa del Vaticano abbiamo allacciato poi questi personaggi sin dai primi papi fino al famoso mitico Re Artù che abbiamo svelato chi era e fino a eh Carlo Magno da cui nasceranno poi tutte le ehm famiglie reali dell'aristocrazia eh nera e nel quattordicesimo secolo la il Vaticano vendette invece la patente per l'usura a persone che venivano da Gerusalemme pensando che fossero loro e i loro ante della loro stessa razza invece erano degli Ixos pensate che la stella di Israele la famosa stella ce lo dice la Bibbia la stella del dio Re Sheff Re Sheff era il dio ehm della pestilenza eh della lebra addirittura eh Mosè tradì la famiglia degli israeliti per allearsi con gli Ixos quando combatte contro il famoso faraone Tutankhamon nipote di Mosè ne parleremo nelle le prossime eh puntate per poi scusa se ti interrompo eh ogni tanto permettici un attimo di intervenire eh sennò divento monologo ma è interessante quello che che hai detto fino adesso però sulla stella di Davide io so che sono due triangoli no che sono sì posizionati in modo opposto quello è il simbolo del dio Re Sheff ce lo dice la Bibbia in in ok un dio mh io io so che stilizzato il triangolo che dà verso il basso è la patata l'organo femminile e il triangolo verso l'alto è il caso l'organo maschile l'insieme di due triangoli fa l'androgeno fa l'essere l'essere voluto perché gli esseri dicono sopra le quattro quinte quinte seste insomma dimensioni eh non hanno sesso e quindi quel simbolo è un rappresenta un po' quello che è un'interpretazione che è stata data ma se tu vai nella Bibbia la eh si dice chiaramente che la stella era la stella del dio Re Sheff e tra l'altro la stella di Merentap nella stella di Merentap dove si parla di e il Merentap era il figlio del faraone Ramse II eh nella sua battaglia si parla per la prima volta viene citato il nome di Israele eh di il faraone Merentap dice molto chiaramente di aver sterminato eh tutti eh il seme di Israele quindi discendenti di Mosè di Aaron di Miriam eh e inoltre l'ideogramma che viene rappresentato per Israele è un uomo e una donna che rappresentavano dei nomadi mentre per quanto riguarda degli degli stati venivano eh ideogrammizzati con tre montagne comunque a parte questo oggi vorrei introdurre un attimo la figura del prima di introdurre vorrevo chiederti ma hai citato la Bibbia come fonte di 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 questa cosa qui eh puoi approfondire un attimo meglio quando dici che nella Bibbia il simbolo di eh la guarda adesso dovrei sì l'ho messo anche nel libro dove dove si parla del Dio Rechef eh mi spugge il il passo dell'Antico Testamento dove si parla di questo poi magari ve lo manderò eh così potrete leggere eh tutto quello che riportiamo è fonte di accurata ricerca eh in quale passo viene viene menzionato tutto dobbiamo fare un po' le pulci a tutte le cose perché la gente ci si dice eh va bene certo certo ma tanto poi quando ne parleremo vi forniremo tutte le prove di quello che diciamo parlando Alessandro ne stiamo parlando perché se no diventa un monologo ripeto e e le persone a un certo punto se non hanno dei punti di riferimento cioè non trovano delle collegamenti fanno veramente fatica eh per quanto io e Tom siamo preparati Tom molto più di me tra l'altro eh sono eh beh insomma cazzo sei un pozzo inesauribile di di informazioni inutili Tom quindi eh sì concludo questo dicendo che nel quattordicesimo secolo poi la patente vendette la patente per l'usura a queste persone che venivano da Gerusalemme e poi abbiamo da le le famiglie degli orafi genovesi veneziani che inventarono poi le note di banco e poi con il Rothschild che appartengono proprio alla progruppo Jai stesso progruppo di di questi Ixos eh tolse la sovranità monetaria per prima eh alle banche e oggi siamo eh sotto schiavitù grazie al signoraggio bancario eh popolo dei grandi costruttori messo sotto dagli eh discendenti Ixos che ci hanno tolto la sovranità monetaria quindi stiamo assistendo poi ad uno scontro tra due eh elite di potere quella Kurgan dei nobili della restituzionera del Vaticano contro quella Ixos che fa un riferimento ai banchieri eh che appartengono a questa altro gruppo Jai detto questo eh invece ecco perché poi ritorno ai BRICS eh alla controvertibilità con loro che vogliono fare per riprendere eh in parte potere d'acquisto però qui andiamo su economia monetaria che è altra tematica eh anche se è poi tutto strettamente connesso e legato ragazzi noi trattiamo storia e religione in realtà eh si tratta di politica e di politica legata al potere e purtroppo il cristianesimo è una dottrina nata eh per acquisire potere da parte poi della nascita della della chiesa diverso dal Gesuanesimo ovvero da quella mh quel predicato che portava avanti invece Gesù che era un terapeuta di Alessandria d'Egitto fondarono comunità queste di queste terapeuti dove eh praticamente tutto veniva distribuito in maniera equanime tra eh in queste comunità tant'è che Pietro se eh Tom si ricorda il passo dove mh l'uccisione di due vecchietti Anania e Zaffira che entrarono in questa comunità lo stesso papà Bergoglio ci ha detto sì Pietro uccise Anania Zaffira perché vendettero un terreno entrarono in queste comunità e parte del di quella somma eh di quel terreno che vendettero la tenerò per loro e invece in queste comunità tutto doveva essere distribuito in maniera equanime. Stai parlando degli Esseni con un altro nome oppure stiamo parlando di un altro? Allora gli Esseni derivano da Onia IV eh erano molti vicini ai terapeuti e discendono sempre da Alessandria eh dal giudevole Alessandrini che vivevano in Egitto dalle comunità eh che facevano riferimento al tempio di Eliopolis fondato da Onia IV figlio di Onia III quindi erano molto vicini ma diversi. Ad esempio i terapeuti come Gesù come eh praticavano il battesimo cioè l'immersione dell'acqua una sola volta mentre gli Esseni praticavano queste abluzioni più di una volta abbiamo testimonianze a cura di questi di queste vasche eh quindi erano abbastanza diverse. Scusa prima 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 non ti voglio cioè ti lascio poi ti lascio la briglia sciolta però siccome è arrivata un 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 diciamo un commento che anche anch'io sono interessato a chiederti qual è la tua opinione sulla questione dell'RH negativo come gruppo sanguigno nell'ambito di tutta questa tematica se ce l'hai se no andiamo avanti eh? No guarda avevo visto una volta basta che allora do un consiglio se scrivono su Wikipedia se sono informati su questo su Wikipedia su internet basta che scrivono bufala dell'RH negativo se ne sono occupati i genetisti smontando questa bufala che vorrebbe come un DNA completamente esterno e alieno rispetto al nostro quindi non non c'è niente di 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 vero a livello scientifico comunque sia poi queste sono domande che io dico sempre la mia competenza è l'ambito storico antropologico. Ok benissimo benissimo. Quindi quando si parla di genetica queste cose ogni persona dovrebbe fare confronti con persone competenti cioè l'egittologo che parla di egittologia di 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 piramidi che dovrebbe avere confronti con un egittologo che parla di storia con uno storico eccetera eccetera per avere un quadro ehm un contraddittorio infatti ho sempre detto ragazzi eh l'ho detto anche a voi eh se eh trovate un professore sacerdote del Vaticano che venga a confronto sulle nostre scoperte storiche eh che sia il benvenuto. Abbiamo cercato per molto tempo questi confronti in realtà c'è stato un vescovo il vescovo Rosario Ferrara che ha visto tutte le nostre documentazioni e ha detto io ho visto le documentazioni che ha portato Alessandro sono tutte veritiere queste documentazioni che cosa comprovavano. Uno Gesù era l'ultimo piglio del re Ero del Grande e di Maria Boeto terza moglie del re Ero del Grande. Due Paolo di Tarso fondatore del cristianesimo Erode era Ero del Grande era il nonno di Paolo di Tarso quindi Maria moglie di di Ero del Grande Giuseppe cugino del re Ero del Grande. E' stato costruito il cristianesimo sulla famiglia del re Ero del Grande e ovviamente questo si doveva nascondere perché Ero del Grande fu un pluriumicida che uccise eh mogli tre figli eh suocere cognati sì eccetera eccetera. E eh dicevo chiesto più volte questo confronto è accaduto il miracolo come si dice se Maometto non va dalla montagna eh se la montagna non va da Maometto maometto va dalla montagna invece la montagna è venuta proprio da Maometto perché qui a Tivoli martedì cinque che cosa è successo? C'è stato un eh convegno pubblico aperto a tutti quanti con un eh professore della pontificia università urbiniana nonché eh sacerdote quindi un elemento di spicco eh del Vaticano professore e docente eh che ha fatto un'ora di intervento su Paolo di Tarso alla fine del suo intervento sono intervenuto pubblicamente eh ci sono persone che hanno fatto le riprese di quello che sto dicendo e eh praticamente gli ho portato davanti le prove del fatto che Paolo di Tarso era il nipote del Rero del Grande che Maria era la moglie del Rero del Grande che Gesù era l'ultimo figlio del Rero del Grande che Maria con Giuseppe e un altro personaggio fratello di Giuseppe ovvero Teuda cospirarono per uccidere il Rero del Grande e quello fu il vero motivo il vero motivo che portò poi eh Maria e la Sagra Famiglia a fuggire cercati da Erode che aveva scoperto questa cospirazione nei suoi confronti signori siamo davanti ad un evento epocale perché il eh professore eh del Vaticano nonché parroco eh alla fine della mia intervento ha detto Alessandro eh io non sono in grado di confutare le tue argomentazioni dovresti fare un intervento ehm un confronto con uno storico attenzione ragazzi io ho portato ho portato le documentazioni che ho usato per eh queste prove storiche ho usato scusate non portato ho usato Vangeli Canonici che appartengono allo studio dei docenti e professori del eh Vaticano Vangeli Apogrifi e lo storiografo Tito Plavio Giuseppe dal cui la chiesa che conoscono benissimo trae le prove dell'esistenza storica di Gesù attraverso il testimonio in Flavianum e attraverso un altro passaggio dove parla di Giacomo fratello del post di Gesù quindi fratello carnale da parte non so se riesci a leggere il commento che sto mostrando lo leggi? Avete? Ah perfetto ecco lo atto sette quarantatré avrei preso con voi la tenda di Moloch è la stella del vostro Dio Refan che è Recep non è la stella di Arreda Sreda Navide ma eh del Dio Ixos Refan perfetto ok torniamo però su questo argomento perché qui ci troviamo davanti per la prima volta a qualcosa di epocale è come se eh Einstein portasse la formula della rivelatività in un convegno pubblico gliela smontano dopodiché eh una volta che gli smontano la formula della rivelatività Einstein ehm eh dicesse eh beh ma lei a chi gliela smontata dovrebbe andare a confronto con un matematico ragazzi c'è come parallelo eh Alessandro tu hai non ragione eh hai perfettamente ragione però eh siamo di fronte a una menzogna enorme che dura da più di duemila anni eh che ha coinvolto miliardi di persone non milioni ma che queste persone in buona fede attenzione la maggior parte delle persone guarda una persona squisita questo professore ma ne sono convinto cioè la sua risposta non è stata solo una risposta per smarcarsi ma è stata una risposta sincera ha detto io non sono in grado ok tant'è che annuiva quando gli leggevo le frasi proprio da Paolo di Tarso ma perché probabilmente le aveva già lette lui in prima di te o anni fa ma non le aveva capite come le hai capite tu e non le aveva messe associandole ad altri studi che tu hai fatto proprio per creare il innesso per creare la storia ok ma io infatti sono coscio del fatto che i testi copti ritrovati annagammati sono stati scoperti nel dicembre del quarantacinque e sono importantissimi dopo vedrete il motivo il perché ci hanno fornito le prove di tutto questo ma prima che sono stati sbolognati la chiesa non voleva che emergessero questi testi copti che sono testi indipendenti dai racconti di che ci fanno confermare come vedrete tutta la nostra storia alla fine di questo conferenza del mio intervento poi quando è finito tutto quanto io ho parlato con il professore io ho detto professore quando legge il vangelo di matteo che cosa troviamo i magi che andranno a gerusalemme e con chi si incontreranno con il re ro del grande ora parte la datazione il 5 avanti cristo dalle nostre date ci viene detto che seguivano una stella e negli annali cinesi pensate quanto sono approfondite di nicchia le nostre ricerche abbiamo scoperto che ci fu l'esplosione di una nuova la nuova rimase rimane visibile nel cielo per parecchi mesi quindi è quindi è una storiella vera quella della stella ma non era una stella cometa parliamo dell'esplosione di una nuova andranno davanti ai ro del grande dicendogli siamo venuti ad adorare il re dei giudei attenzione perché la giudea faceva parte della palestina e la palestina era sotto la regalità di ero del grande avrebbero messo in discussione la regalità di ero del grande anche se era un re vassallo messo proprio da marco antonio dai romani nel 37 come re della della palestina avrebbe immediatamente uccisi perché avrebbero messo in discussione la sua regalità dicendogli siamo venuti ad adorare gesù re dei giudei ma dissero questo perché sapevano che a erode stava nascendo il suo ultimo figlio e abbiamo svelato nel libro oltre il velo di iside da chi furono mandati da archelao di cappatocia la cui figlia glafira sposò ben due figli del ero del grande prima aristobulo che è figlio di ero del grande di maria la smonea che ero del grande ucciderà nel sempre attenanti cristo dopodiché sposerà archelao etnarca a cui fu tolto poi la sua etnarchia per cattiva amministrazione nel 6 dopo cristo e lui è rimasto basito da questa affermazione non è che l'ha potuta computare quando sono intervenuto no si parlava di paolo di tarso e gli ho detto professore ma secondo le nostre ricerche paolo di tarso apparteneva alla famiglia degli erodiani infatti lettere ai romani lui stava facendo il convegno su paolo di tarso lettere ai romani è scritto da paolo di tarso paolo di tarso dice salutate i familiari di aristobulo salutate erodione mio parente erodione vuol dire giovane erode lui sta dicendo che solamente gli erodiani avevano questo nome erodione abbiamo fatto ricerche sulle attestazioni dei nomi sulle tombe tutto ragazzi quindi paolo di tarso sta dicendo che lui era imparentato con un personaggio della famiglia del re erode il grande erodione ed aristobulo abbiamo svelato che erano questi personaggi e ho detto attenzione perché un altro personaggio molto famoso dei vangeli ovvero la famosa tralomè che chiese su un bassoio d'argento la testa di giovanni battista abbiamo scoperto ve ne forniremo poi le prove tra poco che era la sorella niente meno che di paolo di tarso bene salome dopo la morte del tetrarca filippo nel 34 nel ventesimo anno del regno di tiberio filippo era sempre un figlio di erode il grande e di cleopatra di gerusalemme salome eccola qui e sposò aristobulo di calcide che era figlio di erode di calcide erode di calcide era fratello di agrippa e di erodiade e da questa unione nacque erodione quindi salome era la sorella di paolo di tarso attenzione forniremo tutte le prove di quello che sto dicendo tra poco aristobulo era il cognato di paolo di tarso perché sposò salome la sorella di paolo di tarso e paolo di tarso era lo zio di questo erodione questo vuol dire che a questo punto dovremmo trovare altre conferme di paolo di tarso legato a questi erodiani come parentela e gli ho detto vediamo un attimo lo stereografo tito flavio giuseppe se ci parla di paolo di tarso e ce ne parla ascoltate bene ve lo ripeterò più di una volta questo passo tito flavio giuseppe in guerra giudaica antichità giudaica scusate da parte loro costobar e saul saul saulo era il nome di paolo di tarso ragazzi per chi non lo sapesse da parte loro costobar e saul raccolsero bande di malviventi bande di malviventi loro stessi erano di stirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con agrippa questa gripe agrippa secondo che come vi dimostreremo era cugino di paolo di tarso ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli cioè ragazzi qui ci stanno dicendo che paolo di tarso raccolse una banda di malviventi per depredare delle loro ricchezze dei loro averi i più di i più deboli un robinus dal contrario praticamente ruba i poveri per donare ai ricchi una merda un superciuppo te alla porta chi se lo ricorda sì superciuppo certo eh bel personaggio come no mi ricordo no mi ricordo uno di quelli no dei poverazzi con cui ce l'aveva lui che no c'era questa folla di poverazzi e uno faceva me lo ricordo vogliamo anche noi la villa la piscina e i figli biondi mi fa morire ogni volta che c'era solico col naso rosso il mantello che volava famoso l'ambrusco scaduto che cazzo era fantastico quindi ragazzi attenzione perché qui la parte importante è che ci dice che costo barezza wool loro stessi erano di stirpe reali raccorsero favori a motivo della loro parentela con agrippa in quel periodo il re era agrippa secondo attenzione guardate questa genealogia perché che cosa abbiamo scoperto che un altro figlio di ero del grande avuto da maria boeto madre di gesù poi vedrete perché era erode il famoso erode che sposò ero di ade ok da erode ero di ade nacque salome ero di ade ragazzi era la sorella del re agrippa primo che ebbe come figlio agrippa secondo ora erode mamma di salome agrippa fratello di erode padre di agrippa secondo erode madre anche di paolo di tarso agrippa padre di agrippa secondo paolo di agrippa secondo erano cugini di secondo grado ecco perché vi ho detto in atti degli apostoli uno e paolo di tarso che cosa ci racconta quando lo volevano arrestare e attenzione paolo di tarso venne a sapere dal figlio della sorella ovvero erodione figlio di salome viene detto negli atti che i giudelli lo volevano uccidere perché asseriva che gesù era ancora vivo siamo sotto il procuratore felice che fu procuratore dal cinquantadue al cinquantotto e paolo di tarso asseriva che gesù era ancora vivo tant'è che la resurrezione di gesù come sappiamo è una resurrezione non nello spirito ma carnale fu visto ci dice paolo di tarso da oltre cinquecento persone parlava interloquiva con loro Tommaso gli toscò il costato per assicurarsi che fosse proprio lui ma come è possibile è una resurrezione carnale per cui i proto cristiani si andrano a scontrare con gli gnostici perché apro una parentesi sì perché gli gnostici che cosa dicevano che il creatore di questa terra piena di malvagità dove c'è sofferenza doveva essere un demiurgo e noi la nostra scintilla divina per liberarci di questa impurità e avvicinarsi al vero dio trascendente di unirci a lui dovevamo liberarci della materia gesù con la resurrezione carnale non si era liberato del suo corpo ecco perché osteggiarono questa resurrezione di gesù ed ecco perché la chiesa uccise tantissimi persone che portavano avanti proseliti dell'ognosticismo fino a sterminare i catari nel 1200 no? Ora altra informazione che ci dà sempre Tito Flavio Giuseppe è che costo Baresaul ci dice erano fratelli attenzione perché ritorno un attimo eh sul sugli atti quando eh il tribuno voleva arrestare Paolo di Tarso Paolo di Tarso gli disse altra io sono cittadino romano non potete arrestarmi sono cittadino romano di nascita la cittadinanza romana di nascita si doveva avere per discendenza acquisita da famiglie molto importanti infatti il padre di Erode il grande Antipatro ebbe la cittadinanza italiana da romana scusate da Giulio Cesare da Giulio Cesare abbiamo Erode il grande eh Aristobulo Erodiade con Erode e Paolo di Tarso ecco perché era cittadino romano e il tribuno gli rispose io per avere la cittadinanza italiana eh romana l'ho dovuta pagare ed anche a caro prezzo e quando venne fatto il processo a Paolo di Tarso Paolo di Tarso si appellò a Cesare tant'è che lo mandarono da Nerone in Grecia e Agrippa secondo e lì c'era presente quel processo Agrippa secondo e Berenice di Cilicia erano due fratelli amanti che dietro lo scandalo a Roma tant'è che poi Berenice di Cilicia divenne anche l'amante di Tito Berenice la benedrice dice adesso la chiamavano e eh Agrippa disse peccato che sia appellato a Cesare perché non c'era nessun motivo per poterlo giudicare e gli ho detto al professore del Vaticano quindi non era un caso che Agrippa secondo e Berenice fossero lì al processo di Paolo di Tarso era il cugino e perché aveva un fratello che si chiamava Costobar Costofaro guardate qui signori abbiamo Salomè figlia di Erodiade Erodiade era la figlia di un figlio di Erode il grande Aristopolo che sposò Berenice questa Berenice era la figlia di Salomè sorella di Herrero del grande e del governo e Salomè sposò il governatore dell'Indumea Costobar questi nomi venivano messi per discendenza come mettiamo i nomi dei nostri nonni guardate qui Costobar Berenice Erodiade Costobar ragazzi era tutto allacciato avevamo tutto sotto gli occhi e quindi gli ho fornito tutte le prove del fatto che qui Paolo di Tarso oltretutto gli ho detto era il nipote di Gesù ma come come poteva essere il nipote di Gesù dal momento che Paolo di Tarso non incontrerà mai Gesù no lo incontrò sulla via di Damasco ma trasformato e memorizzazione in luce Gesù giusto perché Gesù era addirittura lo zio di Paolo di Tarso ragazzi perché Gesù era figlio di Maria Boeto e del re Erode il grande come siamo arrivati a questa tremenda conclusione nel 5 avanti Cristo ci racconta Tito Flavio Giuseppe ci fu una cospirazione contro il re Erode il grande in questa cospirazione ci dice che fu coinvolta la sua terza moglie Maria Boeto Maria veniva chiamata Boeto perché era figlia di Simone sacerdote ad Alessandria d'Egitto dove c'era la regina Cleomatra e questo Simone era figlio di Boeto dopo la battaglia di Filippi dopo la battaglia di Filippi nel 44 sapete Marco Antonio che chiamò a Tarso nel 41 per festeggiare la vittoria Cleopatra e Boeto e lo fece addirittura amministratore indovinate dove a Tarso Paolo di dove era Paolo di Tarso amministratore del di Tarso lo fece guardate un po' la discendenza è arrivata fino a nostro caro Paolo e ci dice confessarono i fratelli di Maria sottoposti a tortura due sommi sacerdoti Ioazzar e Eleazar quindi lo storiografo Tito Flavio Giuseppe ci parla di una Maria moglie del re Erode grande che cospirò per avvelenare il re Erode attenzione ci forci da un altro indizio Tito Flavio Giuseppe ci dice che il veleno fu preso da Teudione fatto venire proprio dall'Egitto Teudione vuol dire come erodione giovane e Teuda perché era molto giovane infatti erodione abbiamo visto che quando avvisò Paolo grosso modo avrebbe avuto 15 16 massimo 17 anni in quel periodo era molto giovane questo Teuda fece prese il veleno dall'Egitto per uccidere il re Erode il grande cosa ci dicono poi i Vangeli Erode scoprì la cospirazione innanzitutto siamo andato era il 2014 e disse mio figlio ma lei ma qui questa Maria che cospira contro Erode qui non ci hanno sempre detto che Erode aveva paura di Gesù che potesse detronizzarlo quando questo era appena nato Erode era in quindivida pochi mesi dopo nel marzo del 4 avanti Cristo eh questo era un nato senza esercito senza niente Erode aveva un esercito reggio con cui aveva scompitto tutti quanti i suoi avversari e l'appoggio delle regioni romane ma come è possibile ci hanno raccontato una barzelletta ci doveva essere qualche altro motivo perché Erode cercava la Sacra Famiglia e questi dove li ritroviamo a Betlem ma attenzione perché è stato preso Betlemme Betlemme si trovava mi sembra a 18 chilometri da Gerusalemme se non erro 10 o 18 quindi a un'ora di cavallo perché andarono a Betlemme non andarono a Betlemme Betlemme venne presa dalla profezia di Michea che disse dell'Antico Testamento che il Messia liberatore di Israele sarebbe dovuto nascere a Betlemme quindi li faranno fermare a Betlemme proprio e partorire Gesù lì proprio per questo motivo in realtà poi da Betlemme furono avvisati dall'angelo che Erode li cercava e fuggirono in Egitto togliamo Betlemme ragazzi che è una storia anche l'angelo fuggirono immediatamente in Egitto dove avevano fatto arrivare il veleno per spacciare il re del grande ma attenzione dove avevano l'appoggio di tutti i loro parenti perché ne parleremo nella seconda puntata Maria era niente meno che la figlia della regina Cleopatra d'Egitto e del suo sacerdote Simone Boeto e nacque intorno al 38 avanti Cristo Maria fu sposata nel 23 da Erode il Grande quando aveva all'incirca 15 anni non fu Giuseppe che la prese che era molto giovane 15 anni fu Erode tant'è Flavio Giuseppe che cosa ci dice che vide quando seppe che la figlia del sommo sacerdote era bella non potendola avere con la forza perché era di origini nobiliari eccetera eccetera decise di sposarla e certo Erode il Grande tra l'altro si relazionò più di una volta con Cleopatra e Flavio Giuseppe ci racconta addirittura che Cleopatra voleva avere rapporti sessuali con Erode il Grande Erode rifiutò per paura di Marco Antonio andò addirittura sotto procetto da Marco Antonio Erode il Grande vi racconteremo tutta la storia di quello che è successo ma attenzione aspetto un attimo solo che finisco perché nella famiglia dei Boetus abbiamo ritrovato e Maria era figlia di Simone Boeto tutti i personaggi dei Vangeli Marta Boeto era la moglie di Giacomo fratello di Gesù Marta era Marta di Betania Marta Maria e Lazzaro appartenevano alla famiglia dei Boetus Giovanni Battista parente ugualmente apparteneva alla famiglia dei Boetus non solo ma Giovanni Battista era figlio di Zaccaria Zaccaria figlio di Achia sapetevi era Achia Tom era il fuggito del re Erode il Grande lo abbiamo ritrovato negli scritti di Dito Flavio Giuseppe perché a quel punto ha detto cavolo ma questi sono tutti erodiani andiamo a vedere un attimo chi sono questi questi personaggi siamo messi messi le mani letteralmente della testa e cosa scop bene scoperto Anna Gammati nel dicembre del 45 testi cotti in questi testi cotti te lo leggo vedi se trovi il libro lei dunque seconda Apocalisse di Giacomo questo è il discorso pronunciato in Gerusalemme da Giacomo Giusto Giacomo Giusto ci viene detto da Giuseppe Flavio che era fratello di Gesù Adelphos non Adelphos vuol dire fratello lo carnale è scritto da Marein uno dei sacerdoti egli lo narrò a Teuda padre di questo giusto Tom chi era Teuda era colui che prese il veleno dall'Egitto che cospirò insieme a Maria per uccidere il re Erode il grande e quindi qui entriamo proprio nel merito di quello che ti volevo chiedere perché perché volevano cioè qual era la motivazione perché volevano farlo fuori Erode il grande c'era hai scoperto quale poteva essere la motivazione tanto ricapitoliamo sì va bene fino adesso siamo stati su prove storiche perché abbiamo Tito Flavio Giuseppe che scrive in greco per l'alta borghesia romana raccontando questa storia quindi non poteva in Egitto non sarebbero arrivati quei tessi e ci racconta di Maria moglie di Erode e di Teuda che era cugino di Erode come vedremo tra poco e fratello del Giuseppe dei Vangeli ci dicono i primi padri della chiesa perché aveva l'epiteto di Cleopa che prese il veleno per spacciare l'Erode grande Erode il grande scopre la cospirazione sappiamo dai Vangeli che fuggirono in Egitto e fuggì con Giuseppe Giuseppe attenzione era fratello di Teuda che aveva l'epiteto di Cleopa ce lo dicono sempre la seconda poca liste di Giacomo i primi padri della chiesa ragazzi Gesippo quindi anche Giuseppe famoso Giuseppe padre budarivo di Gesù fu impelagato in questa cospirazione fuggito nell'Egitto e nell'Egitto che cosa ritroviamo Teuda colui che prese il veleno per spacciare Erode che sposa Maria e che ebbe la Maria Giacomo fratello di Gesù a dimostrazione del fatto che quella Maria è la Maria dei Vangeli attenzione perché tutte queste osservazioni io le ho fatte davanti al professore del Vaticano non sono stato confutato portate qualcuno che venga a confutare queste storie perché qui due miliardi e trecento milioni di persone credenti nel cristianesimo è saltata la storia non si può parlare di cristianesimo ma di erodianesimo erano tutti personaggi della famiglia del re Erode il grande questo al di là della figura di Gesù che era un tamaturgo un medico una persona di cultura e delle sue frasi che fece opere fondamentalmente giuste poi vedremo nel processo che cosa successe andremo avanti con le puntate tu mi hai chiesto giustamente ma per quale motivo questi volevano uccidere l'ero del grande c'era un motivo questo è il padre dell'ero del grande e di Salomè antipatro si chiamava antipatro aveva un fratello un fratello che si chiamava eh Giuseppe antipatro è padre del re ero del grande Tom aiutami antipatro e facciamo capire ai nostri spettatori antipatro era il padre del re ero del grande il fratello di antipatro si chiamava Giuseppe questo Giuseppe era lo zio del re ero del grande ok giusto ragazzi ci siamo perfetto questo Giuseppe era sposato con la sorella del re ero del grande Salomè si ed ebbe tre figli da Salomè eh da vediamo dove l'ho scritto eh no non l'ho scritto qui ebbe tre figli i tre figli erano Doris che diventerà la prima moglie del re ero del grande ed è la cugina del re ero del grande essendo la figlia dello zio quindi si è sposato la cugina per fatta la cugina Teuda Teuda che era il fratello di Doris quindi anche lui cugino del re ero del grande e sappiamo che Teuda aveva l'epiteto di Cleopa e era fratello di Giuseppe anche Giuseppe era cugino del re ero del grande tant'è che ancora negli scritti di Tito Flavio Giuseppe mi ritrovo Giuseppe cugino del re ero del grande e che sedò addirittura una rivolta a Gerusalemme sotto il governatore Varo e cosa ci dicono i rabbini ebrei non ci dicono che Gesù era figlio di un legionario romano perché poi Teuda rientrerà a Gerusalemme per fare una rivolta e ce lo racconta il sacerdote Gamaliele fu ucciso per questa rivolta e a quel punto il fratello di Teuda Giuseppe si prese cura sia dei figli di Maria la moglie di Teuda cioè di Gesù e di tutti gli altri figli Giacomo Giuseppe Giuda e Simone più le figlie femmine e troviamo nelle tombe una figlia di Gesù che ha lo stesso nome uscita tutto nel secondo libro di una figlia di Teuda di Teuda e di Maria ma perché fecero questa cospirazione contro ero del grande punto Giuseppe era lo zio di ero del grande abbiamo detto sì ero del grande aveva una un'altra moglie che uccise si chiamava Maria della famiglia degli Asmonei da non confondere con Maria Boeto terza moglie che era la madre di Gesù la eh ed era figlia di eh Alessandra eh che apparteneva alla famiglia degli Asmonei era una famiglia da cui il re Gianneo Alessandra Salome dei dei re Asmonei da cui arriviamo fino a Anticono II ultimo re degli Asmonei e Alessandra la suocera di Ero del grande perché la figlia Maria Asmonei aveva sposato Erode voleva che mettesse suo figlio Aristobulo come eh sommo sacerdote ma era molto giovane e durante una eh cena Erode stava ad Alessandra dade ordine ai suoi servi di annegare fingendo un incidente Aristobulo che era poi fratello di questa Maria Asmonea Alessandra a quel punto era molto amica di Cleopatra capì che era stato Erode a dare l'ordine ai suoi servi di annegarlo fingendo un incidente chiamò Cleopatra chiedendogli di eh mandare sotto processo Erode per l'uccisione di suo figlio poi ucciderà pure la seconda moglie Maria Asmonea eh poi vedremo perché Erode a quel punto dovette andare sotto processo da Marco Antonio Cleopatra stava da Marco Antonio quindi Cleopatra chiese a Marco Antonio di processare Erode il grande per l'uccisione di questo ragazzetto avendo paura che potesse ucciderlo Marco Antonio cosa fece Erode il grande era innamoratissimo di questa sua seconda moglie questa Maria Asmonea diede l'ordine a suo zio Giuseppe di tenere il trono in sua reggenza durante la sua assenza e di siccome era gelosissimo di Maria la Asmonea e di eh tenere sott'occhio sua moglie Maria per paura che potesse tradirlo Marco Antonio andò sotto processo da ehm cioè scusate Erode andò sotto processo da Marco Antonio Marco Antonio lo riscolpò da tutto anzi fecero altri accordi di guerra commerciali eccetera eccetera e quando tornò Giuseppe era sposato con Salome la sorella di Erode il grande Salome accusò suo marito Giuseppe che era lo zio di Erode quindi Salome era la la nipote di 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 Giuseppe di averlo tradito con la sua seconda moglie Maria questa Maria Maria cosa fa una moglie quando si sente accusata di di adulterio ma come ti permetti ma per chi mi hai preso no solito atteggiamento delle delle donne quindi lì per lì Erode si rabbonì però poi che cosa successe Erode aveva dato all'ordine a suo zio Giuseppe gli disse guarda io non posso sopportare l'idea che se eh Marco Antonio mi processa e mi uccide non sopporto l'idea che mia moglie questa Maria Asmonea potesse poi trovarsi altri uomini per cui se Marco Antonio mi uccide tu la devi uccidere mhm ok durante un altro litigio con Maria Asmonea lei rimpacciò a Re Erode proprio questo fatto gli disse il tuo non è vero amore altrimenti non avresti mai dato a l'ordine a tuo zio Giuseppe l'ordine di uccidermi se tu fossi stato condannato se tu fossi stato condannato se tu avessi ucciso me Erode saltò su tutte le furie ah allora ti ha svelato questo nostro segreto allora eravate veramente amanti e uccise suo zio Giuseppe me coglioni poi uccise Maria l'Asmonea la sua seconda moglie dopo che aveva ucciso anche il fratello questo aristopolo che voleva fare sommo sacerdote poi uccise la suocera Alessandra attenzione perché tu mi hai chiesto ma perché Giuseppe dei Vangeli Teuda Maria perché erano i figli di Giuseppe zio di Erode che Erode gli aveva assassinato Erode aveva assassinato il padre di Giuseppe Giuseppe dei Vangeli di Teuda e di Doris ecco perché a capo di questa cospirazione ci fu poi Antipatro che era figlio di Erode il Grande di Doris sorella di Giuseppe dei Vangeli e di Teuda e attenzione perché Antipatro disse io sono arrivato quasi a 50 anni e qui va a finire che muoio prima io non riuscirò mai a regnare perché mio padre non muore aveva quasi 67 anni Erode il Grande e quindi fu lui poi l'artefice di questa cospirazione ma adesso abbiamo capito perché poi entrarono nella cospirazione anche Doris Giuseppe Giuseppe e Teuda e Maria perché entrò nella cospirazione perché Erode il Grande aveva lasciato la successione al trono ad Antipatro figlio di questa sua prima moglie Doris che era sorella di Giuseppe dei Vangeli e di Teuda e alla morte di Antipatro la successione sarebbe dovuta andare ad Erode che aveva sposato Erodiate Erode figlio di Maria Boeto e di Erode il Grande ma quindi se questa Erode era il padre di Maria Boeto e sarebbe diventato il successore di Antipatro mi sono chiesto ma perché Maria si fece coinvolgere in questa cospirazione? perché Antipatro si lamentava anche di un altro fatto cioè del fatto che se che aveva come successore Erode il Grande dopo di Antipatro non aveva messo i figli di Antipatro ma Erode figlio di Maria Boeto quindi la successione del trono di Israele non sarebbe potuta andare ai figli di Antipatro ecco perché allora Maria ed era una famiglia importantissima appartenente ai Boeto nonché la figlia della regina colpata d'Egitto accettò di partecipare a questa cospirazione e a loro gli serviva l'appoggio anche di questi Oniadi perché in questa maniera si sarebbe assicurata il fatto che dopo Antipatro il successore sarebbe diventato suo fratello ok io ti appoggio ma dopo di te però deve regnare mio figlio Erode altrimenti avrebbero regnato i figli di questo Antipatro figlio di Erode il Grande questo era il motivo ragazzi qui noi portiamo documenti storici che non sono confutabili e attenzione io ho usato Vangeli canonici Vangeli apocrifi e lo storico Tito Flavio dello storiografo Tito Flavio Giuseppe che conoscono benissimo i biblisti i professori del Vaticano loro fanno università ragazzi da Flavio Giuseppe lo conoscono bene per forza perché è attraverso Flavio Giuseppe il testimonio flamiano Giacomo fratello di Gesù che portano prove della della evidenza della dell'esistenza storica di Gesù signori crolla il cristianesimo appare l'erodianesimo chi glielo va a dire adesso ma qui è successo un evento vocale un evento vocale perché per la prima volta un professore del Vaticano e parroco quindi figura istituzionale dopo aver ascoltato le prove che gli ho portato e annuiva perché conosceva quello che gli dicevo quando leggevo questi tessi non può dirmi Alessandro devi confrontarti con uno storico io non sono in grado di ribattere argomentando no ragazzi loro si occupano di questo settore non sono in grado di documentare e non ho dubbi in questo perché l'hai messo nero su bianco sicuramente in queste tue parole tu hai ti sei creato un sacco di nemici ma non solo quelli che oggi hanno il potere ecclesiastico il potere della cristianità e quant'altro i peggiori nemici che tu dovrei affrontare in futuro secondo me sono tutti i bambini lo sai perché sono tutti i bambini del bambino perché non festeggeranno più il Natale oh ragazzi ma pure i lavoratori qui cade la Pasqua il Natale Santo Stefano eh San Pietro e Paolo tutte le festività eh il nuovo ordine mondiale mi dovrebbe fa' però però i lavoratori lavoreranno lavoreranno venti giorni in più l'anno quante feste ci sono? convieni con me sto cercando di rubare qualche sorriso convieni con me tu immagina io da bambino ho fatto catechesimo ho fatto la prima confessione la prima comunione ho fatto la cresima poi quando mi ha dato lo schiaffo ho detto non ci metto più piede perché non ho potuto ridaglielo indietro però tu immagina che fin da bambini ci indottrinano raccontare questa storia di incroci tra cugini fratelli sorelle perché sono incesti sostanzialmente non è un bel esempio di omicidi fraticidi matricidi moglicidi o sorricidi sorricidi eh eh diventa un po' difficile no raccontarla dei bambini che devono essere indottrinati quindi io mi metto anche un po' da questa parte momentaneamente nel dire ok l'hanno fatta facile no è più facile pensare questi due disgraziati che scappano dal re cattivo e trovano con un asinello una mucca su una manzatoia fanno questo bambino che opera dello spirito santo perché lo spirito santo non si doveva dire che i credenti davanti alla pochia sia tu sei un credente sei un credente no 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 stiamo facendo queste ipotesi tu sei un credente per vent'altro credente non hai rapporti sessuali con tua moglie per due tre mesi torni dal lavoro poi questo succedeva e tua moglie ti dice eh caro sono incinta come è possibile è stato lo spirito santo lo spirito santo a me c'è tantissime persone no gridi alleluia o gli dici mignotta gli metto davanti a gli schiaccio davanti alla loro ipocrisia i credenti non mi risponde nessuno non c'è mai uno che mi risconde quello spirito santo ragazzi la risata ve la faccio fa pure io dai quindi dovremmo fare il nome del padre del figlio del battocchio di erode amen questo è ragazzi la domanda non te l'ho fatta te la faccio adesso visto che siamo in questo spirito ma erode perché veniva chiamato il grande ai 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 ragazzi siamo abbiamo già doppiato l'ora aveva il travellone da venti che te devo dire erode in realtà costruì oltre a ricostruire il tempio di gerusalemme una lezione di storia bellissima intere città di tutto e di più poi ti dirò una cosa secondo me questa storia quando pubblicherà il secondo libro ti daremo una mano io certamente ti darò una mano ma questa storia rivista rivisitata e che si basa su documenti storici secondo me da portarla a netflix mi è anticipato vengono fuori almeno almeno dieci attenzione perché noi abbiamo regista inglese un regista molto famoso che voleva fare la serie su netflix e film e documentari e lui ne ha fatti tantissimi ho qualche amico a cui indicare di poterlo di chiedere però la difficoltà è trovare chi finanzia perché attenzione ragazzi non è finita qui la storia perché nella prossima puntata attraverso tutto quella che vi abbiamo svelato riusciremo per la prima volta a capire quello che accadde sul processo gesù pilato perché gesù fu processato da pilato chi lo incastrò ingiustamente perché ma ci fermiamo fermati non fare troppo spoiler basta 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 è stato fantastico alessandro io ti ringrazio con tutto il cuore veramente e io e io mi assorcio veramente mi hai appassionato non pensavo adesso non vedo l'ora della prossima puntata tra l'altro io ragazzi vi chiedo una cortesia noi purtroppo anche noi siamo costretti a comprare i libri non è che abbiamo casa editrice leggetelo anche voi perché ci sono tutte le documentazioni storiche di quello che parliamo quindi avere la visione dei documenti sotto questo anche per tutti gli ascoltatori di quello di cui abbiamo detto quel saci quel vescovo quando entrò in trasmissione con nicole ciccolò più di una volta lui lo disse chiaramente a noi gli abbiamo dato le documentazioni ragazzi io si chiama il vescovo rosario ferrara io ho detto padre io la ringrazio lui disse io ragazzi ho visto tutti i documenti di alessandro de angelis sono tutti veri lui ha tirato fuori la verità dopo duemila anni ma a me non mi interessa che maria abbia cospirato per uccidere erode questo quello e quell'altro a me mi interessa il messaggio che gesù voleva mandare e in questo sono d'accordo con lui però ragazzi qui parliamo di un gesù figlio di dio anche se nella bibbia non troverete mai gesù che si sia dichiarato pubblicamente figlio di dio ma se lui diceva sempre tu l'hai detto tu l'hai detto dice adesso ti incuriosisce la storia del processo sapere che cosa è sì hai messo una pulce perché vi do altra notizia cioè altra conseguenza logica di questo studio ai pochi secondi fratelli del re del grande tutti i fratelli del re del grande antipa che chiese la testa di giovanni battista tutti i figli di erode grande erano fratelli di gesù ragazzi antipa era fratello di gesù capite le conseguenze di questa scoperta gesù certo dice alessio era illegittimo se vuoi aggiungere qualcosa erano fratellastri erano fratellastri va bene un po' come valentino rossi e luca marini vabbè ragazzi ci fermiamo qui perché abbiamo già sforato alessandro e anche alessio io vi ringrazio davvero alessio la prossima ci deve essere anche tu eh eh sì non puoi non puoi fare vabbè ragazzi ci chiudiamo con il nome del padre del figlio del battocchio di erode comunque ti ringraziamo vi ringraziamo davvero di cuore ci faremo un ril ok grazie a tutti ragazzi alla prossima puntata a presto prossima un abbraccione a tutti e due lunga vita sveleremo tutto tutto ma proprio tutto sigla prossima un abbraccione a tutti